Come ti chiami figliolo? Maio! Zek Maio, signore! In tutti i corsi c'è sempre un buffone che crede di essere più forbo di me. Che ci fai con una ragazza quando ti sei staccato di me? Mai avuto una ragazza. R-di-no! Non mi ritiro! Così sarai libero! Deborah Winger Richard Gere Ufficiale Gentiluomo Martedì alle 21 su 27